Il treno Il treno Benvenuti a Terreacqua TV Eccoci al secondo appuntamento con la nostra trasmissione io sono Elena Tambini e sarò la skipper che vi accompagnerà quest'estate tra le onde della musica, dell'arte, degli spettacoli e del cinema del Lago di Como Anche quest'oggi parleremo di eventi di ogni genere senza dimenticare il Festival Terreacqua a Lago di Como La rassegna di eventi ispirata al progetto del nostro Davide Vandespros per conoscere e vivere il territorio a 360 gradi. Siete pronti a salire con me a bordo del Piroscafo Patria? Andiamo! Anche questa puntata di Terra e Acqua TV sarà ricca di ospiti che ci racconteranno tutti gli appuntamenti di questo fine settimana. Gli eventi sono tantissimi, infatti c'è il rischio di dimenticarsene qualcuno, ma se ci seguirete fino alla fine questo non succederà. Quest'oggi infatti parleremo del Festival Como Città della Musica con Barbara Minghetti, presidente del Teatro Sociale Aslico, e del film Como Lake Festival con Alberto Camu, organizzatore del festival. Infine parleremo del nostro festival Terra e Acqua che la prossima data sarà a Dongo, il 12 luglio, e avremo come ospite Davide Colavini che ci parlerà del suo nuovo monologo, Pezzi. L'hanno definita la signora del teatro e la conoscete tutti per il grande lavoro che ha fatto per portare tutti, ma proprio tutti, al Teatro Sociale di Como. È Barbara Minghetti, presidentessa del Teatro Sociale Aslico, a cui do il benvenuto e ringrazio di essere qui con noi. Ciao Barbara, benvenuta qui con noi oggi. Dopo la ricca stagione anchiusa del Teatro Sociale si sta anche per concludere il Como Città della Musica, che porta gli spettacoli del teatro all'Arena. Quali sono gli appuntamenti che aspettano il nostro pubblico questo weekend? Siamo appunto in chiusura, abbiamo giovedì sera le luci della centrale elettrica, con un concerto per i giovani, venerdì una serata follemente per i giovani, in cui l'Arena si trasforma in un DJ set, quindi ci sarà visual, musica elettronica, arte diversa. Invece sabato e domenica ritorniamo un po' alle cose più classiche, ci sarà un balletto di uccello di fuoco, un balletto famosissimo, molto bello, con grandi effetti di voce e di coreografie. E domenica invece chiudiamo, perché poi lasciamo l'Arena al Festival del Cinema, chiudiamo con un concerto di musica dal vivo, con invece la proiezione di Charlie Chaplin in un'occasione dei Cento Anni. Direi che ci sono appuntamenti un po' per tutti. Sì, l'idea nostra è quella di fare un festival con diverse arti, quindi della musica classica, all'opera, abbiamo debuttato con Cavalleria Rusticana, a eventi anche per diverse età, quindi insomma è un po' quello che ci rappresenta anche in realtà all'interno del teatro della stagione. Assolutamente. Grazie a te in questi ultimi due anni gli spettatori hanno superato la linea che divide il palcoscenico dal pubblico, il pubblico dal palcoscenico, nel senso che avete portato in scena tantissimi comaschi, poi Carmina Burano e pochi giorni fa con la Cavalleria Rusticana che ha avuto un grandissimo successo. Sì, l'idea è quella un po' di rompere le barriere in tutti i sensi, sia appunto con le arti ma anche di rompere la barriera della quarta parete tra spettatore e palcoscenico. Quindi in realtà abbiamo coinvolto tanta gente della città, per Cavalleria circa 500 persone, che però hanno fatto uno spettacolo di altissimo livello e di grande effetto quando in arena è stato rappresentato. E l'idea è anche quella di coinvolgere il pubblico in maniera diversa, quindi non solo più spettatori seduti, ma in questo caso hanno partecipato facendo dei gesti, e partecipano a un brindisi e comunque molto coinvolti da un punto di vista anche fisico, nel senso che i cantanti cantavano veramente vicino e c'erano le azioni in mezzo al pubblico. È una scommessa che abbiamo fatto e che porteremo ancora avanti perché vediamo che diventi un po' la caratteristica di questo festival, questa idea di un'opera partecipata e di un'opera dove il pubblico è molto coinvolto. Sappiamo già che la nuova stagione al chiuso del sociale è già in programma. Ci dai qualche anticipazione in merito? Allora, è una stagione che abbiamo presentato, è una stagione molto importante secondo noi, perché è una stagione che si chiama il Canto della Terra ed è una stagione di avvicinamento all'Expo. Noi ci crediamo molto perché crediamo che il teatro sia una delle arti importanti e di grande rappresentazione anche per un evento internazionale come sarà l'Expo. Quindi è una stagione che parlerà anche delle tematiche come esplodiamo, sia un balletto bellissimo che parla della natura con i sonics, sia un concerto di musica contemporanea con i suori della natura. Quindi ci saranno diverse occasioni per parlare della tematica. È una stagione molto complessa, nel senso che ci sarà danza, musical e opera. Debutiamo con Don Giovanni, con una regia importantissima di Gran Vica che è un regista di fama internazionale. Quindi, come sempre, cerchiamo di comunire un po' le attività legate al territorio, quindi anche le coproduzioni, le iniziative legate all'Associazione di Como, hanno invece venti di fama internazionale per cercare appunto di creare un giusto equilibrio tra Como e il mondo. Bellissima iniziativa. Io ringrazio Barbara Minghetti per essere stata qui con noi. Ricordo a tutti quanti che se siete interessati agli appuntamenti che ha citato oggi, potete consultarli sul sito www.comofestival.org e vi invito a partecipare numerosi. Grazie Barbara. Grazie a voi. È un vero piacere avere oggi come nostro ospite Alberto Cano. Per chi non lo conoscesse, dicono che sia l'anima cinematografica della città di Como. Da più di vent'anni organizza la rassegna ai lunedì del cinema, seguita da tantissimi appassionati, e dallo scorso anno è anche l'organizzatore del Lake Como Film Festival. La seconda edizione è proprio in corso questi giorni. Alberto, benvenuto. Grazie. Un festival cinema di paesaggio, abbiamo detto. Ce ne parli un po'. Sì, l'idea è nata dopo tanti anni di proiezioni estive all'aperto che avevano temi vari, ma a un certo punto abbiamo pensato di fare un salto di qualità e di organizzare un proprio festival. Abbiamo pensato che, appunto dopo queste esperienze itineranti sul lago di Como, questo rapporto tra lo schermo cinematografico e i paesaggi dello sfondo, fosse lo scenario migliore per fare un festival proprio dedicato al paesaggio. Perché, sappiamo, il cinema ci fa viaggiare, ci porta in tanti luoghi, alcuni registi scoprono apposta dei set, ci sono proprio truppe incaricate per scoprire i luoghi dove girare le scene. Quindi abbiamo pensato che era bello, anche perché nel pavolano dei festival, non c'è un festival dedicato al paesaggio nel cinema, che era bello proprio che ci dedicassimo a questo, mettessimo in relazione splendida i paesaggi bellissimi del lago di Como, poi i paesaggi del mondo che vengono dagli schermi cinematografici. Assolutamente, infatti è un'iniziativa assolutamente unica qui a Como. Tu parlavi di itinerante, infatti so che ci sono diverse sezioni, una appunto itinerante, una dedicata alle periferie e anche un omaggio a Giorgio Coloni. Sì, abbiamo diviso il festival praticamente in una parte che è itinerante, che è scoperta dei luoghi, che è come mettere questi schermi in situazioni, perché poi vediamo che al pubblico piace venire a vedere il film e a scoprire anche un luogo. E adesso siamo in corso, abbiamo fatto per esempio bellissimo il Gran Tentremezzo, la Finlandia di Brieno, ieri eravamo in Piazza Grimotti, a Como. E' vero perché in qualche modo si crea una socialità sul cinema, ma scoprendo i luoghi, vedendo i luoghi. Poi abbiamo invece quello che chiamiamo il cuore del festival, che è l'arena del teatro sociale, in collaborazione col teatro sociale, dove mettiamo un mega schermo, una struttura fissa per 11 giorni, e dove presentiamo i film più attuali, i più prestigiosi, con tecnologia digitale, quindi come dire, uno spettacolo in grande, come deve avere un festival, e uno spazio, anche questo, riscoperto l'anno scorso, che è l'arena del teatro sociale in pieno centro della città, e quindi come dire, abbiamo diviso in queste due parti, prima si viaggia e si gira un po' per il territorio dell'Aro, e poi dopo all'arena, dove si viaggia invece virtualmente un po' in tutto il mondo. Infatti questa domenica c'è la prima proiezione all'arena del teatro sociale, che è anche una sorta di staffetta con il festival Comocità della Musica. Sì, l'ultimo appuntamento del festival Città della Musica, e in qualche modo inauguriamo lì appunto il nostro schermo, la nostra proiezione digitale, e già dall'anno scorso abbiamo pensato, con il teatro sociale, di fare proprio il microcio. E quest'anno, peraltro, è bellissimo, perché l'idea per noi di inaugurare lo schermo dell'arena con Charlie Chaplin, che è, come dire, indimenticabile, grandissimo, in un film peraltro che è legato al paesaggio, perché la febbre del loro è proprio la storia di Charlie, cercato del loro, nei primi anni del Novecento, nelle montagne del Klondike, quindi leghiamo, come dire, un grande cinema, il paesaggio e con la musica del vivo, perché la serata organizzata dal teatro sociale prevede la colonna sonora, che è peraltro scritta dalla stessa cellula, e seguita dal vivo dall'orchestra verde di Milano. Certo, assolutamente, diamo due dettagli precisi ai nostri telespettatori da casa che volessero partecipare a questa iniziativa. Quando? A che ora? È domenica alle 9.30, l'orario nostro delle proiezioni 9.30, perché è legato all'imbrunire, all'arena del teatro sociale. Perfetto. Biglietti in vendita alla biglietteria del teatro sociale. Per la prima proiezione del festival. Per la prima proiezione. Poi da lunedì 14 fino al 24, ogni giorno sarà la scoperta di un paese, di un luogo diverso, con ambientazioni alcune veramente uniche. Un'ultima domanda Alberto, tra tutte queste iniziative c'è anche in essere una collaborazione col Terra e Acqua Festival Lago di Como. Ogni settimana noi approfondiamo una data di questo festival che ci sta molto a cuore, di cui anche voi siete partecipi. Sappiamo che ci sarà una proiezione a Donvo, durante la prossima data, delle proiezioni anche sul viaggio di ritorno del Patria, dalla festa. Questi film lakers, chi sono e cosa fanno? Questo è un concorso che abbiamo inaugurato quest'anno, dedicato ai giovani cineasti che hanno meno di 30 anni, che praticamente saranno alloggiati in sette location del Lago di Como, sette comuni che si sono offerti di accoglierli, di mantenerli per una settimana, e loro in questa settimana dovranno realizzare un cortometraggio. Alla fine quindi avremo sette cortometraggi girati in sette comuni del Lago, tra l'altro l'indicazione del concorso è quella di metterne in risalto, proprio l'aspetto paesaggistico e gli aspetti così particolari dei sette comuni. Alla fine del festival, l'ultima serata, il 26 luglio all'angaro, proietteremo questi sette corti, da cui ci sarà poi un corto vincitore, e poi siamo contentissimi che, a parte con la proiezione che faremo all'angaro, questi corti gireranno sul Patria, sul Lago, quindi gireranno tra i luoghi dove sono stati girati, e quindi potranno essere visti, e bello anche che i comuni avranno, questi sette comuni avranno un corto che in qualche modo vestire il paesaggio. Sono sette troupe, di cui due straniere, che sono state selezionate tra una quarantina di partecipanti al bando, ne abbiamo selezionati sette, che sono due stranieri e cinque italiani, i risultati li vedremo la sera del 26 luglio, però credo che avremo dei belli scorci del paesaggio variato. Grazie Alberto, credo che sia un bellissimo modo per far conoscere il nostro territorio, io invito tutti a non mancare alle proiezioni del Lake Como Film Festival e anche alle nostre date. Grazie. Guardate l'arrestimento di questo splendido studio all'interno del Firoscafo Patria. Queste che vedete non sono semplici arredi di scena, ma vere e proprie opere d'arte. Opere d'arte firmate Riva 1920, il punto di riferimento del design dell'arredo e del legno a Como e in tutto il mondo. Abbiamo qui con noi Maurizio Riva, che insieme al fratello Davide sono l'anima di questa azienda. Benvenuto Maurizio. Grazie. Maurizio, sappiamo che voi avete un rapporto speciale con il legno. Si. Si può dire che non siete artigiani, ma veri e propri artisti. Come nascono le vostre opere? Ma siamo artigiani prima di tutto e poi cerchiamo di fare l'artista, ma lavorando, facendo una collezione e lavorando anche uno su uno, insomma. Sono soprattutto sui legni, cerchiamo di usare i legni di forestazione, i legni di riuso, andando in Nuova Zelanda scavando sottoterra e per dire una delle ultime è il ripristino delle briccole. Noi ritiriamo le briccole, non solo noi, perché è aperto a tutti, le briccole che vengono tirate fuori, anziché essere buttate, le lavoriamo per fare degli oggetti. Quindi io chiamo legno di riuso, la terza luce. Siete un'azienda, ma anche tu personalmente, molto vicino ai giovani e mi raccontavi di qualche iniziativa anche fresca fresca di questi giorni. Sì, per esempio oggi sono in triennale a portare avanti questo progetto di Briazza Desai per aiutare i giovani. Un'altra cosa, proprio ieri ho presentato degli artigiani su Asantù, quello di creare una sorta di gruppo per poter andare in televisione con l'architetto Castregnano e presentare l'artigianato senza riva assolutamente, perché noi ormai abbiamo già fatto questo progetto, dove si presenta un territorio come Cantù che è ancora vivo e lì c'è del fabbro in ogni direzione, la produzione di arredi, la produzione di arredi su misura. Quindi, ecco, questo è già parlare socialmente per il proprio territorio, perché non esiste solo la mia azienda. Cioè il fatto che esista solo la mia azienda, alla fine rimaniamo in un deserto. Noi dobbiamo avere soprattutto il territorio molto ricco, molto vivo e soprattutto quello che noi riusciamo a fare è fare rete. Adesso con Briazza Desai sono riuscito a portare avanti anche con personaggi molto importanti questo progetto, dove sono arrivati 700 progettisti e 115 lavoratori. e ci aspetta un po' di mesi di grande fatica, però anche questo. Intanto che sono qui, volevo parlare però anche di un'altra cosa che mi sta molto a cuore. Sto seguendo Villa Bagatti Vassecchi, dove invito tutti i pittori e gli scultori a iscriversi in expoarteitaliana.it e lì facciamo una mostra di otto mesi, dove iniziamo la mostra dei premi di marzo e lo chiudiamo a fine marzo. Io voglio tutti gli artisti in erba, cioè non voglio quelli affermati. Bisogna che chi può, anche gli imprenditori, mettono una mano al cuore e cercare di aiutare tutti questi giovani che non hanno un futuro. Assolutamente, da giovane sostengo assolutamente questa iniziativa e anzi, ripetiamo l'appello della ricerca di questi nuovi talenti. Visto che poi di arte e di cultura parliamo proprio in questa trasmissione, ci fa piacere che sia stato fatto un invito del genere. Alle nostre spalle, Maurizio, vi diamo una bicicletta, che non è lì a caso per scenografia, ma ha un significato molto preciso. Tu e tuo fratello nel vostro Museo del Legno, che è un bellissimo museo a Cantù, sede anche della vostra azienda a cui invito tutti a visitare, avete una collezione di questi antichissimi biciclettoni, una delle quali rappresenta un mestiere. Settimana scorsa abbiamo avuto con noi Davide Mandisfrost che ha raccontato a modo tutto su com'era la bicicletta dell'antico venditore di Pianeti della Fortuna. Ora chiedo a te, la bicicletta che è qui con noi, che tipo di bicicletta è? Allora, una bicicletta del lucidatore, che andava di fabbrica in fabbrica intorno agli anni venti e si portava presso tutte le finiture, dalla gomma lacca, al tour a pori, che ho dovuto anche pensare un attimino che erano i gerghi tecnici che avevo in mente un po' di anni fa, che adesso ormai non si usa più. Il lucidatore di mobili? Il lucidatore di mobili, sì sì. Quindi rimaniamo nel tema. Quindi veniva chiamato nei laboratori e lui arrivava con la sua bicicletta con dentro tutto lo corrente ed era il lucidatore. Io ho provato anche io ad avere mio nonno e vedere mio nonno, che chiamava anche lui il lucidatore, che finiva a gomma lacca, cioè a pezza. Ecco, questo è un po' il discorso. Siamo riusciti a trovare queste biciclette, un'unica collezione di 23 biciclette che hanno dato un impulso notevole al nostro museo, ma anche perché è sufficiente di mestiere. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi oggi, è stato bello conoscere questa tua passione davvero speciale. Ti ringrazio per questi splendidi arredi che ogni settimana c'è con la mia compagnia. Volevo dire che è possibile che dal 20 settembre al 5 ottobre, visto che devo parlare di rete, una cantura verrà 15 giorni dove ci sarà la festa del legno, dove ci sarà una kermest che dura 15 giorni e che invito tutti perché il problema è questo. La festa del legno vuol dire ritirare fuori, anzi far capire la vocazione del territorio, della zona del territorio catturino. No, facciamo così, sono io che invito te a fine settembre a venire qui nuovamente con noi a parlarci di questa festa. Toccherebbe non a me parlare di questo, toccherebbe al sindaco di Catturino, perché io sono solo un promotore. Invitiamo tutti e due, molto volentieri. Io lo ringrazio tutti. Grazie a te Maurizio, alla prossima. Tra pochissimo avremo in studio il prossimo ospite che sarà protagonista della prossima data del Festival Terra e Acqua a Lago di Cuomo, quella di Dongo del 12 luglio. Prima però un servizio per presentarvi questo magico paese. Ave Maria che te borlezza del quadro, prega per il martul, prega per il ladro. Ave Maria che te borlezza del quadro, prega per il padre Eterni, prega per il padre Eterni, prega per il padre Eterni. Ave Maria che te borlezza del quadro, prega per il padre Eterni, prega per il padre Eterni, prega per il padre Eterni, prega per il padre Eterni. breve è la prossima che facci contro ecco. Guarda, guarda giù, donate il rosario, senti ci lampade, testi lampadari, guarda, guarda, guarda giù, donate il rosario, senti ci padre. Qui in questo portale, che peraltro è autentico, ci sono tutte le pietre del lago di Pomo, c'è il marmo bianco di Musso che è nel monte qua dietro la chiesa, il nero di Varenna, e Olcio che è proprio quello là, il rotondo, il cilindro, che è bellissimo, e poi c'è la pietra di Moltrasio che costituisce la gran parte della chiesa. Una chiesa che ha circa mille anni e da mille anni è un po' il centro della vita storica, liturgica e di fede del nostro paese, una chiesa che è rimasta quasi integrale. Di fronte all'altare della Madonna del Rosario, dove c'è un bellissimo pagliotto in scagliola in Telvese, che rappresenta proprio la Madonna col bambino, ma con la corona del rosario nella mano. Del presbiterio affrescato, dal della rovere, detto il fiamminghino, sono rimasti due profeti, due tra i tanti profeti. Ave Maria, è forse che in pagura, che vengono giù con gli angeli con la faccia più oscura. Ave Maria, vestita di celeste, e sare gordo di te, domani su te i festi. Ave Maria, con il cuore, piede e spate, guarda quel che succede giù, in mezzo ai strati. E' con noi Davide Colavini, attore, regista, drammaturgo e anche cabarettista. Forse molti di voi se lo ricorderanno per il suo alter ego in Capitambrianza. Ciao Davide. Ciao Elena, buongiorno a tutti. Davide, ci hai abituato alle risate, ma tu sei un attore completo e al Festival Terra e Acqua, di cui abbiamo parlato prima, presenterai un monologo molto particolare, che si intitola Pezzi, quattro giorni di Pigno. Vuoi anticiparci qualcosa? Sì, Pezzi è una storia territoriale, ambientata proprio in Lombardia, in un piccolo paesino montano, sopra l'Ecco, che racconta di una piccola comunità molto chiusa, dove nessuno, nel 1946, l'anno in cui è ambientata la storia, nessuno ha mai pensato di uscire, perché ovviamente la comunità è una comunità contadina e quindi è una comunità autarchica che vive lì. Per la prima volta avviene qualcosa che rompe un po' questi confini. È finita la guerra, il ragazzo più giovane, che si chiama Italo, che ha quasi 18 anni, viene chiamato per la leva militare. Il ragazzo viene mandato a Pesaro. Pesaro per la prima volta vede, non vede vecchi paesani, ma vede ragazzi con militone, per la prima volta incontra dialetti nuovi, per la prima volta vede mare. Complice il mare, si innamora di una ragazza martigiana, riccioli neri, bella bronzata, molto diversa, insomma, da magari le fattezze delle ragazze qua, per l'epoca. In quel contesto la ragazza verrà su, la comunità verrà sconvolta. Ovviamente la storia è inventata, il comune di Mendozo non esiste, nemmeno la località di Plinio. Il lavoro è un lavoro nel tentativo di ricreare una situazione che potrebbe essere successa in qualsiasi punto d'Italia, in Sardegna, in Lombardia, in Calabria, ma anche in Belgio. Non c'è una territoriale in realtà riconosciuta. Sono dell'atmosfera un po' dark, in questo spettacolo, in cui tu hai deciso di coinvolgere anche Davide Vandesprosso. Ci spieghi un po' in che modo e soprattutto come nasce l'idea del suo coinvolgimento. Davide è stato contattato con voi, e con un po' tutti, proprio perché intanto rappresenta un'attitudinità espressa ai massimi livelli. E poi perché c'era proprio l'utilizzo del dialetto o comunque di spughe dialettali, delle influenze. Secondo me erano importanti proprio perché si voleva togliere quella sensazione di horror americano, dove sono tutti palestrati, parlano in dizione, e tutto risulta molto finto. Era proprio una storia di paese, quindi con tutte le sporcature che può dare la provincia. Quindi il dialetto per ricreare la realtà del paese. La realtà del paese. Infatti le registrazioni audio sono quasi tutte in dialetto. Ora c'è chiaro perché anche Davide... E lui farà la voce del... Lui farà la voce proprio di Italo, questo protagonista, che ovviamente si trova in una situazione... Tra l'altro poi Davide ha recitato benissimo, ci ha stupito tutti perché ha fatto questa registrazione. Davide è un cantautore, ma... Un cantautore, uno non se lo aspetta. Io parlo sempre da vecchio teatrante, no? Quando dico così. Però ha veramente sorpreso tutti e il montaggio poi fatto dal tecnico è stato perfetto, perché proprio vedi dei meccanismi, dei sincronismi fantastici. Sì, infatti io vi ricordo che Davide metterà in scena questo monologo proprio durante la prossima data del Festival Terreaco al 12 luglio a Dungo. Quindi noi siamo contentissimi di ospitare questo spettacolo. Io ringrazio Davide per essere stato con noi e vi ricordo che per consultare tutti gli appuntamenti con pezzi e anche durante il nostro Festival potete consultare il sito www.itinerariwalk.com Non mi resta che salutarvi, amici. Vi ricordo che Terra e Acqua TV andrà in onda tutte le settimane su Espansione TV il mercoledì alle 19.10 e il replica il giovedì alle 22.50. Ringrazio tutti i nostri ospiti di oggi, Barbara Minghetti, Alberto Cano, Maurizio Riva, Davide Colavini e il nostro inimitabile Davide Van de Spross. Vi ricordo che per consultare tutti i dettagli sul Festival Terra e Acqua bisogna andare sul sito www.itinerariwalk.com dal quale è anche possibile prenotare le fantastiche crociere sul patria. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti